Allora, innanzitutto è intollerabile che in un paese civile come la Grecia ci sia un campo così, che invece di 3.000 ne abbia 17 e altre fonti dicono anche 20.000, perché è tutto informale. Quindi che in Europa, che l'Europa tolleri situazioni così è scandaloso. Il Papa ha fatto un piccolo gesto 5 giorni fa, ha preso 43 persone da quel campo e attraverso un corridoio umanitario fatto da comunità di Sant'Egidio, fatto dalle chiese evangeliche valdesi, scusami, ha portato 43 persone in Vaticano da quel campo. Ma è un gesto simbolico, quella situazione è intollerabile e l'Europa fa schifo. Non solo su questo, ti dico un'altra cosa, sugli scafisti noi abbiamo un'agenzia che costa, che si chiama Frontex, che con grande lungimiranza non è stata messa né in Italia, né in Grecia, né in Spagna, ma a Varsavia, dove c'è un traffico di migranti straordinario, che ci costa centinaia di milioni di euro. E se la tua giornalista brava ha fatto quello che ha fatto, questa agenzia che a noi costa molto, che cazzo fa? Però questa roba di Frontex è una cosa pazzesca. Io sono totalmente d'accordo, però un dettaglio, e poi dopo non diteci com'è bella Bruxelles e com'è bella l'Europa, perché ci fate tutti i giorni i comizi su... Ma con chi parli? No, 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 chiedo scusa. Con chi parli? No, parlo con la quasi totalità dell'intellettualità italiana, dei medi italiani. No, parla con me, parla con me. Ma non parlare al mondo, avete le ossessioni. No, guardi, le ossessioni, guardi, chi parla molto delle ossessioni in genere è autobiografico, quindi le sconsiglio di procedere. A lei invece dico un'altra cosa. Noi siamo indietro nel dibattito. Noi siamo indietro nel dibattito. Numero uno, ha ragione Meluzzi su un punto su cui non gli rispondete, che è quello di un limite, perché senza limite si sfascia tutto. Numero due, dirò io una cosa politicamente scorretta, se vogliamo fare qualcosa di utile a un numero limitato di immigrati, senza sfasciare le nostre società, scusate se dico la parola vietata, dobbiamo scegliere, scegliere. Allora, vi do una notizia. Giovedì Boris Johnson vincerà le elezioni inglesi e ha chiuso la campagna elettorale dicendo una cosa, per la quale qui in Italia sarebbe stato massacrato, dicendo noi dobbiamo scegliere gli immigrati, un po' di più quelli high skill, con alte qualità lavorative, per quelli purtroppo a basso skill lavorativo, solo se c'è un'esigenza nel mercato del lavoro, ad esempio nelle costruzioni. Non vi piace Boris Johnson perché è conservatore e piace a me? Vi piace di più Macron? Sta per fare la stessa cosa. O noi colleghiamo numeri bassi alle esigenze del mercato del lavoro, dicendo che stanno ci servendo. Riccardo, che ne pensi di questa impostazione? Questa impostazione, allora, nel 2018, sai quanti immigrati sono entrati con permesso di lavoro in Italia? 15.000. Eh, questo possiamo permetterci, amico mio. Non è che possiamo far entrare tutta l'Africa qua. Noi abbiamo un saldo demografico. Non è che possiamo far entrare tutta l'Africa qua, altrimenti... Ma no, ma chi vuole far entrare l'Africa qua? È tutta l'Africa qua. È come se fosse un... Non lo so, è una cosa vergognosa. Ma chi vuole venire da te nella tua redazione? Quanti ne prendi tu nella tua redazione? Scusa, eh. Ma se domani mattina vengono 100 persone nella tua redazione, entrano e la occupano, tu che fai? Ma parla della realtà, non dalle 100... Come lo fai il giornale? Ma avete un senso... Un attimo, un attimo, capenzone. Un attimo, che il collegamento è sempre difficile. Capenzone, puoi stare zitto. No, 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 vai, vai, Riccardo. Zitto, zitto non lo dice lei. Dica la sua opinione se è in grado. No, no, fermo, fermo, fermo. Non discutiamo troppo. Capenzone, impara l'educazione. Un attimo, stava parlando Riccardo. Facciamolo finire. Pagliela tu. No, via de lei, guardi. Diamoci de lei che non ci conosciamo. No, dai, 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 dai. No, 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 Riccardo. Mamma mia, capenzone, per favore. Ma che c'ha problemi? C'ha problemi? Io sì. C'ha problemi? Che sostanze usa? No, 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 no. Riccardo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Posso rispondere? Fermo, fermo, fermo. Riccardo, il punto è, tu dici, 15.000 persone sono entrate con permesso di soggiorno regolare. Sai il saldo demografico dell'Italia, quant'è ogni anno? Io ho visto che sono 400.000 italiani in meno negli ultimi anni, negli ultimi quattro anni. L'ultimo anno 139.000. Siamo in un inverno demografico totale. Non riusciremo più neanche a pagarci le pensioni, perché ci sarà più di un pensionato il litro delle pensioni. Ma non puoi fare ingressi casuali. Scusi, allora, io prendo anche... Bisogna, sto dicendo, bisogna governare, ha ragione la collega. Ma lei dice bisogna governare, dice anche Buonacenzo. E allora dica che ho ragione, no, anziché insultare. Io le ho detto prima una cosa semplice e di buonsenso. Cioè, possiamo stabilire che quest'anno abbiamo bisogno di 10.000 badanti, 5.000 infermieri. Cioè, fai una cosa di questo genere, è buona per noi, è buona per loro. Se invece col cuore grande dite 100.000 a caso, si crea... Bene, basta, Caprezone, voglio sentire. Mi fate parlare, Riccardo, è l'unico che voglio sentire in questo momento. Manca un minuto e 40 e poi abbiamo un altro blocco. Forza, Riccardo. Su 500... no, 630.000 irregolari, ci sono 230.000 irregolari che lavorano nelle nostre case. Cosa ne facciamo di queste che ci fanno tanto comodo?